Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video interattivo, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare il video che ha come titolo una grande notizia in arrivo per voi. Ricordo che è sempre un interattivo, non può sostituire una stesa personale fatta con nome e data di nascita. Ricordo pure che essendo un interattivo è valido sempre dal momento in cui viene aperto per la visione ed è valido per il momento attuale. Essendo un interattivo dovete prendere semplicemente quello che risuona con la vostra vita, con la vostra situazione. Può riguardare qualsiasi settore sentimentale, lavorativo, familiare, di amicizia, personale. Dipende come le mie parole riescono ad agganciarsi con la vostra vita, la vostra situazione. Ricordo pure di prendere semplicemente quello che risuona con voi e di lasciare andare il resto, perché essendo un interattivo e visto da tantissime persone, quello che non va bene per voi andrà bene e si aggancerà perfettamente con qualcun altro. Ricordo pure che per comodità parlo al femminile, parlo in tanti modi, mi riferisco in tanti modi, però il video è adatto a tutti coloro che lo stanno guardando, sia uomini che donne. Iniziamo subito con la variante 1 che è contrassegnata con la coccinella rosa e poi abbiamo la variante 2 che è contrassegnata con la coccinella arancione. Adesso andiamo a vedere cosa ci dicono le carte per la variante 1. Iniziamo subito con la variante numero 1. Intanto usciamo tutte le carte. Allora raggiungerò il pensiero che mi può far sentire meglio, al quale ho accesso. Devi sempre cercare di raggiungere una sensazione di sollievo, che nasce quando lasci andare un pensiero che oppone maggiore resistenza e lo sostituisce con uno che ti fa sentire meglio e che permette a ciò che desideri di avvenire. Il flusso di benessere scorre costantemente attraverso di te e più gli permetti di fluire meglio ti sentirai, più resisti peggio ti sentirai. Mi sostengo per fare la scelta giusta. Sono meravigliosamente capace tutte le volte che affronto una sfida nella mia vita uso l'esperienza per imparare a crescere. Poi vediamo che carte abbiamo. E poi abbiamo tempismo perfetto. Questo è il momento perfetto per agire seguendo l'ispirazione. Le porte sono aperte e mentre le attraversi noi siamo al tuo fianco. Non rimandare perché tutti gli ingredienti sono già pronti per darti un esito favorevole. Tutto e tutti sono con te e supportano il tuo successo. Perciò la prima e l'ultima carta ci fanno capire che è una situazione di movimento. Una situazione di movimento che ci fa capire che quelli che hanno scelto questa variante sono pienamente presenti a loro stessi. Vivono il momento, vivono l'attimo e vivono la vita vissuta e capiscono che la vita va vissuta giorno per giorno. Attimo per attimo. Abbiamo anche qui una situazione di modo di porsi davanti alle cose. Nel senso che il pensiero deve essere sempre positivo. Quando riuscite a fare un pensiero positivo ecco che il vostro il vostro animo si risolleva, il vostro essere raggiunge una sorta di benessere che fa scorrere tutto in modo molto più fluido. È una sensazione molto bella perché tutto quello che riusciamo a far defluire in un pensiero positivo ci apre le porte e ci permette di ottenere ciò che si desidera e di avere un avvenire quantomeno più rosio possibile. Un'altra carta ci dice che nel momento in cui siete pronti ad affrontare una sfida ecco che siete capaci di attuarla questa sfida e di fronteggiarla oltretutto. È l'esperienza che avete fatto magari da una situazione negativa vi aiuta ancora di più ad affrontare quello che sta per avvenire. Abbiamo la carta del giovane bruno perciò come ripeto sempre ogni tanto le carte ci danno una indicazione specifica a chi è indirizzata la variante e qui abbiamo delle persone castane anche se siete tinte anche se siete tinti lo dico sempre dovete perché se siete bionde la maggior parte di noi non sono bionde naturali ma al di sotto c'è un colore scuro ecco questa è la stesa dedicata a voi o quantomeno avrete a che fare in questa situazione in questa notizia in questa grande notizia in arrivo avrete a che fare con persone di con colore di capelli scuri. Abbiamo anche una situazione di come dire perdita di denaro forse voi in passato avete avuto qualche contrattempo avete avuto qualche disguido magari anche la perdita di una sentenza di una causa che vi ha fatto perdere del denaro ecco che qui abbiamo una una nuova iniziativa una nuova possibilità un qualcosa preso con più fermezza non avrete più diciamo la paura di cadere nella slealtà non sarete più volubili come prima ma sarete molto più fermi e molto più decisi soprattutto nel dire di no perché magari nella situazione passata che vi ha dato una bella stangata perché è stato un qualcosa che vi ha fatto perdere a molti potrebbe aver fatto ha fatto perdere del denaro a morti a molti anche il sentimento le amicizie dipende dalle vostre situazioni sempre però adesso c'è una forma di cambiamento una forma di direzionamento in una in una situazione completamente diversa questo vi farà capire se le persone o la situazione che andrete a vivere sarà una situazione sleale cioè non sarete più così volubili non sarete più così facilità convincere ma sarete molto più fermi nelle vostre decisioni appunto per quello che è stato per quello che avete passato l'ultima carta infatti ci dice che è un tempismo perfetto è il momento di agire secondo la vostra ispirazione le porte sono aperte a tutto quello che di positivo può entrare nella vostra vita perché avete tutti gli ingredienti per farcela perché il supporto e il successo di una presenza angelica di un qualcosa di molto più energetico e molto più superiore e molto più superiore è superiore a voi e accanto a voi e perciò vi aiuterà a prendere le decisioni giuste soprattutto a non essere di nuovo coinvolto in situazioni che potrebbero danneggiarvi andiamo a vedere adesso cosa ci dice la nostra stesa vera e propria vediamo un po' c'è una parte di indecisione in questa situazione che voi andrete a chiarire andrete andrete a chiarire o avete chiarito in passato è perché qua dobbiamo vedere la situazione come si svolge come si è svolta qui c'è un'indecisione che parte da un punto diciamo da un punto del vostro passato cioè quello che vi ha portato ad avere una perdita di denaro o una perdita in senso generale adesso ho trovato un chiarimento perciò voi non siete più in quella fase che vi farete distruggere vi farete separare non ci sarà più il ritorno di una situazione che vi porterà alla separazione e diciamo da sentimenti da fattori economici non ci sarà la distruzione completa di tutto quello che era il vostro pensiero da tutto quello che erano i vostri progetti perché voi finalmente state riuscendo ad ottenere un controllo sulle vostre decisioni sulla vostra vita che appunto denota un'esperienza denota un'esperienza se adesso avete le idee molto ma molto chiare infatti questa indecisione si trasforma si trasforma con questa nuova notizia in armonia in armonia il chiarimento vi porta ad essere più pazienti a non come dire a non avere più l'impetuosità di scegliere in una di scegliere molto velocemente ma avrete la pazienza di capire se è una situazione che a voi fa comodo oppure è una situazione da evitare completamente diciamo che la situazione precedente la perdita che c'è stata vi ha abbastanza distrutto e abbastanza siete stati abbastanza esausti la separazione comporta anche un abbandono c'è stato un abbandono o da parte vostra o da parte di qualcun altro che è legato a una situazione che avete vissuto e che vi ha rafforzato infatti il ritorno di una situazione analoga simile a quella che già avete vissuto ed è stata per voi molto negativa sicuramente voi prenderete la decisione nella vostra vita di non farla ritornare più c'è appunto il rifiuto di una situazione simile a quella che vi ha fatto soffrire e di conseguenza avete il controllo in pieno della situazione i pettegolezzi non sono alla vostra non sono fatti per voi né tantomeno vi farete scalfire da pettegolezzi che verranno fatti il riposo è stato molto positivo per il vostro modo di pensare in vostro modo di vedere le cose vi ha portato tantissima stabilità una stabilità che in questo momento vi aiuta a controllare tutto quello che sta arrivando nella vostra vita e a poter decidere in modo molto più armonioso appunto come dicono le carte non avrete più quella frenesia di voler fare tutto e subito ma la pazienza sarà diciamo la prerogativa del vostro modo di fare del vostro modo di vedere di controllare tutto minuziosamente questo vi porterà a non avere più delle brutte sorprese di separazioni di stanchezza questa è una vostra decisione proprio è una caratteristica che vi ha trasformato è stata una trasformazione che adesso è una prerogativa del vostro essere voi adesso decidete di non tornare più a come eravate ma di avere il controllo su tutto quello che dovete decidere e se è necessario potete anche rifiutare quello che non vi sta bene adesso andiamo a vedere cosa ci dicono i nostri tarocchi innanzitutto è in arrivo un cambiamento è in arrivo qualcosa di nuovo ecco che appunto non vi farete prendere più da quella forma di come dire di immaginazione che ogni tanto vi prendeva da dare cioè l'entusiasmo che si ha nelle prime esperienze l'entusiasmo che si ha nelle prime emozioni certe volte quando l'età ancora è un po immatura si fanno i colpi di testa questo a voi non succederà più perché anche se vi farete prendere un po dall'immaginazione dall'entusiasmo della novità però voi siete come dire siete sicuramente convinti che il progetto l'iniziativa la situazione che sta per iniziare nella vostra vita deve essere una una situazione che deve andare a lungo termine che deve avere una continuità e per questo vi troverete a dover decidere e vi troverete a avere un equilibrio interiore che vi permetterà di non fantasticare troppo con la mente non ci sarà più quella indecisione non ci sarà più quella indecisione ma ci sarà una sorta di giudizio minuzioso giudizio minuzioso delle persone delle situazioni che si proporranno a voi e questo vi permetterà di concludere in modo positivo tutto quello che sta per arrivare nella vostra vita tutto quello che di concreto sta per arrivare nella vostra vita vi porterà ad avere diciamo soddisfazione a pagamento in qualsiasi settore familiare amore di sostegno proprio interiore a livello lavorativo è una forma di giudizio che darete a tutta la situazione che vi porterà un qualcosa di molto molto positivo infatti qui abbiamo una situazione di di come dire di aver accresciuto la vostra conoscenza e di tenere stretto tutto tutta l'esperienza che voi avete avuto tutta la la situazione che avete vissuto voi l'avete incamerata dentro di voi la tenete ben stretta questo ha creato una forma di sapienza dentro di voi e questa forma di sapienza vi porta appunto ad avere una conoscenza ad essere molto più parsimonioso nelle decisioni ad essere molto più minuzioso infatti abbiamo appunto un bel cambiamento un cambiamento che vi porterà ad un trionfo un trionfo che sarà come un ci sarà sicuramente un cambiamento e ci sarà all'arrivo di qualcuno di qualcosa che dovrà mettere appunto nella vostra vita determinate determinate cose nel senso che vi verrà fatta una proposta ci sarà un qualcosa di nuovo nella vostra vita a cui voi dovete su cui voi dovete prendere una decisione questa decisione sarà una decisione che vi porterà ad avere ad essere molto diplomatico ecco ad essere molto anche se la situazione voglio dire è una situazione invitante a cui qualcuno direbbe sì subito voi invece avete ben i piedi per terra appunto il controllo e se vedete che è una situazione che a voi non convince avete sempre l'opportunità di dire no di dire no perché avete anche la possibilità di rifiutare appunto ci sono notizie in arrivo c'è può essere qualcuno in arrivo o qualcosa ci possono essere dei viaggi sicuramente è una situazione da gestire in modo molto energetico abbiamo molto ottimismo da parte vostra abbiamo molto ottimismo perché riuscite con il vostro autocontrollo a capire che cosa è positivo per voi o cosa può essere negativo e decidere di conseguenza bene prima variante questa è la vostra stesa come sempre se vi ritrovate nelle mie parole vi aspetto giù nei commenti e io passo alla variante numero due eccoci con la variante numero due respirare il mio umore rivela il mio stato d'animo quando continui a focalizzarti su un pensiero qualsiasi diventa sempre più facile continuare a focalizzarti su di esso perché la legge dell'attrazione fa in modo che sempre più pensieri simili siano a tua disposizione e così a livello emotivo stai sviluppando un umore o raggiungendo una disposizione vibrazionale o uno stato emotivo sono parte dell'universo armonioso proprio come tutti noi so di essere un tutt'uno con la vita sono la bellezza e la gioia dell'universo mi esprimo e sono aperto a ricevere depurati e disintossicati con grande amore e rispetto ti chiediamo di depurare il tuo corpo che è prezioso e sensibile se ce lo chiedi ti aiuteremo a gestire lo stress in modo salutare e allenire qualunque rimpianto per come lo facevi in passato affida a noi ogni tuo pensiero timore e preoccupazione e goditi la splendida grazia che si prova ad avere un corpo depurato allora qui abbiamo una situazione dove c'è respirare respirare una carta di tranquillità di pazienza di attesa di andare piano e di benessere soprattutto di meditazione è come prima la prima carta e la seconda carta in questo caso si sposano perfettamente perché l'ultima carta vi invita a depurarvi depurarvi nel senso di prendersi un pochino cura di voi stessi a livello di meditazione ma anche a livello proprio corporeo cioè mangiare meglio bere molto fare magari un po di sport e riuscire ad essere più focalizzati su voi stessi come persona appunto la focalizzazione del pensiero è una cosa importante perché più pensieri positivi ai più pensieri positivi attrai è una legge diciamo è la legge dell'attrazione perché un genere di pensiero attira sempre pensieri dello stesso tipo perciò se iniziamo a mangiare bene è logico che il nostro pensiero si focalizza sempre sul cibo salutare abbiamo qui appunto la carta della vanità dell'afflizione e della rivelazione che cosa significa significa che siete magari delle persone vanitose però siete afflitte un pochino afflitte perché non riuscite a vedervi per come vi immaginate tante persone si immaginano in un modo ma come voi come molte volte succede si guardano allo specchio e non si rivedono la carta vi sta a suggerire di prendervi un pochino cura più di voi stesse magari non lo so non vi piace il colore dei capelli cambiatelo non vi piace un determinato cibo eliminatelo sapete che un qualcosa magari fa male alla vostra salute eliminatelo sostituitelo con qualcosa di molto più energetico di molto più salutare faccio un piccolo esempio sapete che i dolci vi fanno male sostituiteli con la frutta la frutta è una un'alternativa abbastanza colosa e sempre dolce a un dolce magari confezionato che vi fa semplicemente male abbiamo appunto la rivelazione la rivelazione è appunto questa questa forma di apertura mentale che sia nel momento in cui il corpo comincia a migliorare perché dopo una settimana di mangiare bene e magari di eliminare i dolci faccio io faccio un piccolo esempio eliminare i dolci confezionati voi vi rendete conto che alla fine della settimana un piccolo progresso lo avete fatto e da lì avviene la rivelazione la rivelazione è quello stato di consapevolezza nel dire ma è vero che i dolci mi fanno male allora è meglio che lo si che li sostituisco con la frutta e questo vi porta allegria vi porta una buona notizia vi porta un qualcosa che vi fa stare meglio e di conseguenza l'allegria che voi provate nel sentirvi meglio e nel vedervi anche un po diverse ecco che vi porta ad avere ancora più iniziativa e ad essere ancora più incentivati a continuare questo riguarda molto anche le donne sposate le donne che stanno con qualcuno perché magari dopo il matrimonio dopo aver avuto i figli magari molte di voi non si vedono più come prima e allora la carta vi suggerisce di prendere una come dire di andare da un nutrizionista di andare da un qualcuno che sia competente e cercare di risolvere questa situazione perché per molte di voi questa situazione diventa poi una malattia una malattia che vi porta ad isolarvi e a farvi sentire tristi quando poi vi assale la tristezza ecco che voi magari cominciate a fare delle cose sbagliate che fanno ancora di più male al vostro corpo diciamo che la notizia che in arrivo per voi potrebbe anche essere adesso andremo a vedere con la stesa potrebbe anche essere per quanto mi riguarda questa è una stesa a livello proprio personale a livello di introspezione di vedere dentro voi stesse è una situazione che vi porterà a rinnovarvi vi porterà ad essere appunto depurati e disintossicati perché molte di voi dopo questa questa diciamo questa questa stesa prenderanno appuntamento con un nutrizionista o magari andranno dal proprio medico per tentare di migliorarsi e di diciamo depurarsi e disintossicarsi questo non solo fa bene nel corpo ma anche alla mente osservazione avrete la consapevolezza di osservarvi in modo diverso di osservare il vostro essere in modo diverso e di capire che quella che state vivendo è una situazione malata è una situazione malata per voi perché voi diciamo state male con il vostro modo di pensare con il vostro modo di fare ed ecco che un'osservazione approfondita di voi stesse vi farà capire che la situazione è una situazione che si può cambiare infatti ci sono dei sentimenti dei sentimenti che voi nutrite verso voi stesse dei sentimenti che vi portano a spiarvi all'interno a guardare all'interno e a non vedere più che le altre persone le persone che sono intorno a voi sono delle rivali e capirete sicuramente che la verità sta dentro di voi perché è inutile prendersela con qualcuno che già sta facendo un percorso per migliorarsi che già sta facendo un percorso per stare bene e magari voi siete ancora lì a pensare a ma quella come fa quello come fa è semplicemente questione di buona volontà perciò qui avete un'osservazione che farete sicuramente un'osservazione che vi porterà a capire che la situazione che state vivendo è una situazione alquanto malata per voi e ci saranno dei sentimenti di rivedere all'interno di voi stessi e non vedere più tutto il resto della gente come con tanta rivalità ma capire che la verità è quella di poter cambiare appunto la vostra difesa la vostra difesa sta nel fatto che voi vi richiudete nei vostri sensi di colpa i vostri sensi di colpa sono quelli che cominciano a parlare dicono ah ma io non ce la posso fare ma io sono diversa non è vero siamo tutti uguali perciò se io parto da un punto di vista se una cosa la può fare un'altra donna allora la posso fare anch'io questo è il mio principio di base io non sono meno di nessuno per non poter fare quello che fa un'altra donna perciò se un'altra donna si mette con un nutrizionista si mette con un medico e riesce a fare un percorso dove in un tot di tempo riesce a perdere i chili che ha in più e a rivedersi in modo magari migliore a sentirsi meglio perché io non lo posso fare è semplicemente una questione di comodo rifugiarsi nei sensi di colpa perché non lo voglio fare ma non perché io non lo posso fare ed ecco che avviene questa forma di tradimento tradimento verso voi stesse tradimento verso voi stesse perché compare l'invidia compare l'invidia perché ad esempio la mia ipotetica rivale che è diciamo la donna che si viene in forma e che mangia bene nella mia ipotetica rivale riesce a superare le sue problematiche e a migliorarsi ecco che invece la verità vi deve far partire all'azione deve essere una verità che vi spinge all'azione una verità che vi fa auto perdonarvi vi fa scomparire il rimorso verso quello che potevate fare ancora non avete fatto perché ricordatevi che non è mai troppo tardi e andare oltre riuscirete sicuramente ad andare oltre tutte queste problematiche mentali che vi state facendo in questo momento nel dire l'altra riesce io no no non è questo il discorso perché poi voi voi siete abbastanza vanitose voi ci tenete ci tenete però non riuscite non riuscite perché ci vuole un pochino di forza di volontà i primi tempi sono duri i primi tempi è vero che sono duri però poi vedete che la vita ricordatevi è tutta abitudine perciò vi abituate anche a mangiare in un certo modo poi nel contempo quando poi voi vi sentite meglio è una catena perché più vi sentite meglio più vi vedete vedete il cambiamento in voi più avete voglia di continuare e perciò è semplicemente un piccolo blocco che voi dovete come dire dovete superare senza dare la colpa a chi non ce l'ha perché ricordatevi che i vostri rivali cioè quelli che voi vedete come rivali anche loro hanno avuto delle problematiche all'inizio anche loro hanno avuto delle situazioni nel dire ce la faccio non ce la faccio ecco qui ecco la vostra lotta questa è la vostra lotta la vostra lotta per un qualcosa che voi siete convinti di non riuscire a fare e invece no perché quello che le carte mi dicono è appunto che non vi dovete sentire in non vi dovete sentire con questa forma di insuccesso non dovete prendere la cosa con superficialità e soprattutto non dovete cercare dei risultati in poco tempo dovete dare tempo al tempo perché i risultati quando si inizia un percorso per il bene proprio per il proprio benessere piano piano si ottengono questo appunto è una una delle diciamo le tre le tre carte che con la lotta prima interiore per decidere e non avere fretta soprattutto riuscirete ad ottenere dei buoni risultati riuscirete ad ottenere dei buoni risultati anche se dopo un po di fatica perché diciamo che la fatica è quella sensazione che vi fa ancor più godere del risultato finale appunto abbiamo qui una bellissima carta che abbiamo qui la donna di la regina di bastoni che è una una regina abbastanza forte abbastanza importante è una delle carte che diciamo mette in atto la sua esperienza per sé e per gli altri è una donna molto sicura di sé indipendente anche se siete abbastanza umili però io vedo che siete una donna abbastanza energica perciò vedete che voi riuscirete a trovare un buon comproverso fra quello che dovete dare quello che dovete ricevere i sacrifici che farete per migliorare il vostro stato di benessere per migliorare ciò che volete nel vostro aspetto nel vostro corpo sicuramente avrete in cambio una buona una buona risultanza anche se in alcuni momenti vi sentirete stanchi vi sentirete afflitti vi sentirete come se volete buttare all'aria tutto e non non avrete più la forza di continuare invece qua le carte mi dicono che riuscirete benissimo nel vostro lavoro riuscirete benissimo nel vostro lavoro e sicuramente andrà via questa sensazione di isolarvi questa sensazione di stare da soli qua c'è un lavoro da fare mi raccomando iniziate questo percorso e continuatelo perché qua mi esce una carta di continuità nel lavoro e vedo qui che metterete poi sotto giudizio appunto questa forma di indecisione che in questo momento vi sta attanagliando e devo dire che riuscirete ad incontrare la persona giusta la persona giusta che vi potrà aiutare o quantomeno potrebbe anche essere che riuscirete a ritrovare in voi stesse quella vostra stessa persona che magari avevate dimenticato e che invece ancora vive dentro di voi magari è nascosta in qualche angolino nell'attesa che voi gli tendiate la mano per farlo uscire fuori bene seconda variante questa è la vostra stessa se vi siete ritrovate nelle mie parole vi aspetto giù nei commenti la seconda stessa è stata più una un qualcosa a livello proprio di introspezione vostro personale di una situazione vostra personale ma le carte alle volte fanno vedere anche questo vi ringrazio per tutte le iscrizioni e per tutti i like continuate ad iscrivervi al canale e se vi fa piacere lasciatemi un like vi ricordo che fino al 31 luglio i consulti personali sono in promozioni poi da lunedì 2 agosto torneranno al prezzo normale e vi ricordo pure che per info sui consulti il mio indirizzo lo trovate giù nelle info sotto il video io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video